Questo è il fuoco causato da una cicca di qualche ciclista deficiente su questo ciclabile vicino al mirollo di Mantua, è pazzesco, adesso chiamerò il 115, i pompieri, è una prova da pazzi. Entriamo al fumo e speriamo di uscire, proprio sento odore di bruciato e si avvicina al berro. Grazie a tutti.